Ciao qui Matteo Bellini di Chef del Benessere, ti do il benvenuto come sempre nella mia video pillola mattutina. Oggi continuiamo a parlare degli zuccheri aromatici e ti voglio parlare dello zucchero della rosa. Per aromatizzare un chilo di zucchero ti serviranno 350 grammi di pettoli di rosa. Non dovrai fare altro che unire lo zucchero ai pettoli di rosa, pressare il composto, mescolarlo bene, chiudere il vaso e disporlo al sole per circa un mese. Ovviamente dovrai ricordarti di agitarlo di tanto in tanto per fare in modo che asciughi in maniera omogenea. Anche questo zucchero potrai utilizzarlo sia nella preparazione di torte che per aromatizzare le tue bevande o per qualsiasi altra ricetta ti consigli la tua fantasia. Anche per la video pillola di oggi è tutto, come sempre io ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro buona cucina e ti do appuntamento a domani. sempre alle 8, sempre con me. Ciao!